Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. L'esercizio 2022 chiude con un saldo positivo di circa 534 milioni di euro. La proposta di legge ha ricevuto 23 voti favorevoli dal Partito Democratico Italia Viva e 11 contrari da Fratelli d'Italia, Lega, Gruppo Misto Toscana Domani e Movimento 5 Stelle. Il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato che migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia l'equilibrio della spesa, per intenderci fra entrate ed uscite relative al 2022 c'è un avanzo di oltre mezzo miliardo di euro. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo, ma è dato dal fatto dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della regione rispetto a spese future. Ma anche qua siamo in forte miglioramento perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta un miliardo e 400 milioni di euro, solo sette anni fa era più del doppio. Quindi uno sforzo importante, una gestione attenta che dimostra come le risorse finanziarie della regione toscana vengono spese con attenzione e oculatezza. C'è il tema della spesa sanitaria che ovviamente la vicenda pandemica ha cresciuto, rispetto a questo il Fondo Sanitario Nazionale non è adeguato a garantire le prestazioni che oggi sono necessarie, tant'è che nel 2022 la regione toscana ha messo dal proprio bilancio 237 milioni di euro a fronte delle maggiori spese della sanità. Ecco, al netto di questo credo che possiamo essere soddisfatti di una gestione che sta in equilibrio e che come trend migliora le proprie prestazioni. Noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri dei conti della regioni della regione su questo rendiconto 2022. E lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, in particolar modo dalla Procura della Corte dei Conti e ovviamente anche dal Collegio che ha ricepito i rilievi, partendo da intanto una considerazione di fondo, cioè che sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che seppur in parte recuperato continua a mantenere un peso sui conti della regione toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per le generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti portati avanti dalla regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico della contabilità da parte della Corte dei Conti, tant'è vero che la regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti e con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto e promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte e in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate, dove la Corte ha correttamente richiamato il fatto che la partecipazione della parte dell'ente regione sta all'interno di un provvedimento ormai legislativo, il testo unico che dà dei vincoli ben precisi, che siamo in una situazione in cui moltissime di queste partecipate, cito fra tutte visto che all'ordine del giorno anche di questo consiglio regionale di ieri se ne è discusso Firenze-Fiera, dove abbiamo dei disavanzi importanti, abbiamo delle situazioni in cui si rincorre il tentativo di un ripianamento che spesso non si realizza, che non succede e dove altro elemento importante a mio avviso da considerare, dove la regione che spesso è socio di maggioranza o comunque socio particolarmente importante e talvolta addirittura in house non riesce a verificare la situazione perché spesso gli atti che arrivano fanno riferimento a contabilità precedenti, aggiornati al 2021, magari aggiornati insomma non certamente allo stato degli atti come dovrebbe essere e quindi su questo c'è un altro elemento inquietante che la dice lunga su quello che è il quadro dei conti di questa regione. Il giudizio di parifica della Corte dei Conti ha denunciato quello che noi diciamo ormai da molto tempo e cioè il bilancio soprattutto nei rapporti con le ASLE, quindi in ambito sanitario, non è assolutamente trasparente, è un bilancio quello della regione molto rigido, siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali come per esempio la riorganizzazione del personale, rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consigliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme perché la regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità e in questo senso ci spaventa molto anche la volontà ribadita dal Presidente Gianni in udienza di fronte alla Corte dei Conti di voler proseguire nella costruzione di Toscana Strade, una società per la quale sono già stati accantonati diversi milioni di euro e ancora non è partita. Quindi davvero una situazione molto confusa per la quale speriamo gli uffici riescano a tenere botta e che non sia di previsione per un aumento delle tasse perché gli uffici in Commissione Controllo ci hanno detto che la pressione fiscale in regione Toscana è ferma dal 2013 e con l'aumento tendenziale delle spese, compresa anche la crisi energetica probabilmente si renderà necessaria presto una manovra da questo punto di vista. L'Italia aveva votato a favore il rendiconto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della regione Toscana che dimostra essere in equilibrio finanziario un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico, abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare i servizi senza aumentare addizionali IRPEF, senza aumentare bollo e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi è una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale. Un giudizio sul rendiconto complessivamente negativo non fosse altro perché sono reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario dove la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente l'utilizzo di mutui che poi vengono a finanziare investimenti sul perimetro sanitario che però scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la Regione Toscana ha adottato almeno dal 2015 che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Questo perché siamo purtroppo di fronte a una programmazione, a un'organizzazione della parte sanitaria, quindi del complesso del sistema che ancora oggi non viene tradotta in politiche concrete. Dall'altra parte poi ci sono alcune altre questioni che purtroppo rimangono ancora critiche, la questione delle società partecipate, un ruolo di Regione Toscana che pare non essere incisivo, un ruolo che continua ancora a veder rinviato alcune scelte strategiche soprattutto su questioni ancora importanti, non solo fiere ma più in generale alcune realtà che sulle quali la Regione Toscana dovrebbe intervenire anche e soprattutto prendendo atto di criticità non più rinviabili. In realtà si continua a procrastinare nonostante un impegno che era stato preso anche dal Consiglio regionale invitando la Giunta ad una revisione, ad una riorganizzazione di questo perimetro che però ancora oggi non vede la luce. Tasto dolente anche per quanto riguarda il PNRR e più in generale la programmazione europea. Noi ancora oggi non abbiamo una visione completa di quella che è la programmazione, soprattutto non abbiamo una visione completa della complementarietà per l'appunto che dovrebbe avere la risorsa, diciamo le risorse del complesso della Regione Toscana, i fondi europei e il PNRR. I numeri ad oggi sull'attuazione del PNRR sono numeri piccoli per la Regione Toscana e dall'altra parte questo quadro poco trasparente rispetto alle risorse destinate anche alla nuova programmazione non ci consente di avere un quadro anche appunto programmatorio completo. Questo dal mio punto di vista è un vulnus importante perché senza diciamo la giusta trasparenza sull'impiego delle risorse noi non possiamo avere poi un quadro anche di quello che è stato attuato e di ciò che invece dovrà essere diciamo realizzato nel prossimo futuro. Quindi questo è sicuramente un tasto assolutamente dolente su cui purtroppo anche qui non vediamo una correzione di rotta e questa è una situazione che ci spinge nuovamente a un voto negativo. Il rischio è che nel 2024 siamo nuovamente qui a rilevare le stesse medecime censure perché da questo punto di vista abbiamo una giunta che pare non voler adottare quei provvedimenti che invece in realtà noi riteniamo ineluttabili su questi settori. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con il voto favorevole del PD, quello contrario di Italia Viva e la stensione di Lega e Fratelli d'Italia, la nuova legge regionale che modifica la normativa vigente in materia di raccolta, coltivazione e valorizzazione del tartufo. Nella legge si definiscono meglio le modalità e i luoghi dove esercitare le attività di cerca e raccolta dei tartufi. Si aggiorna il calendario di raccolta e si introduce un percorso formativo con esame finale per il conseguimento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta. Approvato anche un ordine del giorno che impegna la giunta a implementare, già dalla prossima variazione di bilancio, le risorse destinate agli interventi di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. Previsto anche l'impegno ad aggiornare l'elenco dei comuni ricompresi nelle zone di provenienza, entro tre mesi dall'approvazione dell'atto e a procedere ad un aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali, delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate. La legge va esattamente nella direzione di tutelare quello che è un patrimonio della regione toscana, che è una delle maggiori regioni a livello italiano per la coltivazione e la cerca del tartufo, con circa 4.000 tesserini ogni anno che si dividono fra zone coltivate e zone di libera cerca. Quindi è quello che è stato l'interesse oggetto di questa modifica di legge per le mutate condizioni della normativa nazionale, ovviamente, è stato quello di trovare un punto d'equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno modalità di coltivazione tutto l'anno, sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale, con un'attenta anche mappatura che dovrà essere redatta ancora più precisamente sulle zone che siano effettivamente realmente produttive di tartufo, cercando di limitare e di dare una definizione precisa agli orari per la cerca del tartufo, alle zone di addestramento cani e quindi quelle che sono le regole sia per la regione ma anche per i comuni per disciplinare quella che è una materia sicuramente molto complessa e molto importante e una grande fonte non solo di economia ma anche di hobby per questa regione che ne fa di un prodotto di grande valorizzazione e di richiamo in tutta la nostra regione. Quindi il punto di caduta credo sia un punto che non ha snaturato ma che ha cercato di valorizzare e di dare in qualche modo una giusta risposta a tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno la volontà di cercare questo prezioso prodotto. Alla fine la discussione e l'ordine del giorno collegati sono stati firmati anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega e di questo insomma gli ringrazio. Vorrei fare un grande ringraziamento anche agli uffici sia legislativo della Giunta che del Consiglio regionale perché il lavoro che ci ha portato a questo testo definitivo è stato un lavoro molto lungo, complesso che ha fatto sì che le oltre 80 osservazioni che fossero arrivate in un percorso di ascolto di tutte le associazioni coinvolte fosse costante e quindi attentamente anche valutato arrivando poi alla fine a trovare una quadra, una sintesi che mettesse d'accordo più persone possibili. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro e lasciare libera la raccolta e la fruzione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo ma ovviamente a favore del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta ma anche della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Chi coltiva una tartufaia, chi lo produce, chi la lavora, chi mette in sicurezza idraulica un territorio fa un lavoro per il territorio, lo fa per se stesso, lo fa dentro un quadro di regole che in questo momento consentivano a molti ragazzi e a molte ragazze di fare impresa. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato il lavoro, debba essere tutelata la promozione, debba essere tutelata la valorizzazione di un prodotto che è sì del territorio, è sì spontaneo ma se coltivato produce una redditività importante e una produzione. La storia ci dimostra che laddove si è coltivato infatti si trova ancora ed è non è un caso che da altri territori vorrebbero andare a uniformare le normative. Avevamo proposto molte alternative, quella di differenziare nelle sette aree di provenienza toscana una differenzazione delle norme, si è voluto tirare dritto, a mio avviso è un grave errore perché il testo di legge concertato con l'associazione di categoria e con il mondo dell'impresa che la Giunta aveva partorito era un testo ottimo, il testo che arriva in fondo è snaturato e credo che questo sia un errore che si assumerà il Partito Democratico al cospetto dei cittadini toscani. Grazie a tutti.